La giunta provinciale di Bolzano ha approvato oggi il progetto proposto dall'assessore Bessone relativo al restyling dell'edificio sotto tutela al civico numero 5 di via Vittorio Veneto nel capoluogo che diventerà la casa delle associazioni provinciali di lingua italiana. Il programma planivolumetrico che interesserà lo stabile costruito nel 1895 prevede spese per 4.820.000 euro. Nell'edificio troveranno spazio 31 associazioni che operano in vari ambiti.